Il prossimo 9 di giugno i cittadini del Comune di Giulianova dovranno nuovamente recarsi alle urne per eleggere al ballottaggio il nuovo sindaco del Comune Costiero. Nel primo turno sono andati a votare in 13.538, che rappresentano il 63,47% degli aventi diritto, dato in calo rispetto però alle amministrative del 2014. I cittadini giugliesi dovranno scegliere tra il polo civico guidato da Ivan Costantini, sostenuto da sei liste Giulianova Turismo, Giulianova in Movimento, Costantini sindaco al centro della città, azione politica all'alta Giulianova e verso Giulianova, che al primo turno ha ottenuto 4.050 preferenze, che rappresentano il 30,98%, e il centrodestra dei partiti rappresentati dal candidato Pietro Tribuiani, appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli Italia e la civica, idea per Giulianova, che con 3.783 preferenze ha raggiunto il 28,94%. Ricordiamo che si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di domenica 9 giugno e lo spoglio avrà inizio con la chiusura dei seggi che a Giulianova sono 23. Ricordiamo che per la nuova composizione del Consiglio Comunale saranno eletti 16 consiglieri, di cui 10 andranno a chi vincerà il ballottaggio, mentre 6 all'opposizione, che verranno però divisi con gli altri candidati in base alle preferenze ricevute. Giulianova è l'unico comune in regione al ballottaggio, evento che noi di Rete 8 seguiremo in diretta a partire dalle ore 22.45 di domenica 9 giugno, con i nostri inviati che ci aggiorneranno minuto per minuto dai due comitati. Grazie a tutti.